Dopo le dimissioni dell'allenatore Roberto Rizzo, in casa Lecce si guarda al futuro. La squadra è affidata temporaneamente a Primo Maragliulo, ex tecnico del Nardò e del Lanciano. Le ultime indiscrezioni raccolte riferiscono che l'obiettivo per una soluzione definitiva sia Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano, che nelle scorse stagioni aveva fatto benissimo in Serie C, però, si sarebbe preso una settimana di tempo.